Finisce con i tifosi della Curva Nord che lanciano insulti ai giocatori della Samb. E' questa la cartolina della trentesima giornata di campionato. I Rosso-Blu prendono quattro gol dal Chieti ed incassano la seconda sconfitta consecutiva in casa dopo quella con la Bispesaro. Il pubblico del Riviera se la prende con tutti, contestato anche Paolucci, ed i giocatori a fine gara vengono costretti a denudarsi delle maglie. E pensare che la gara era iniziata anche bene per la Samb con Napolano a trasformare un calcio di rigore dopo appena otto minuti. Al Chieti, ben messo in campo da Ronci, però è bastato soltanto sfruttare cinque minuti di ordinaria follia Rosso-Blu per ribaltare il punteggio. Al diciannovesimo Lobosco si perde il pallone in piena area di rigore, assist basso per Broso che appoggia nel sacco. Al ventiquattresimo il sorpasso Teatino, cambio di fascia pregevole di Esposito sulla mediana, corsia sinistra della Samb inspiegabilmente scoperta, Del Grosso si fa trenta metri palla al piede e poi Sbardella coglie in fallo Fulop. La Samb soltanto al trentottesimo riesce a rendersi pericolosa con un colpo di testa di Borghetti sugli sviluppi di un calcio piazzato, palla fuori. Si va al riposo con i Rosso-Blu già subissati di fischi ed insulti. Chi spera di vedere una reazione dei padroni di casa nel secondo tempo resta ben presto deluso. Al quarto, Esposito si beve Botticini partendo dalla linea di fondo, si accentra e segna il 3-1 con la grande complicità di Fulop, autore dell'ennesima papera stagionale. Samb completamente in bambola e dieci minuti più tardi arriva il 4-1. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per gli avversari, Esposito si ritrova tutto solo con il portiere a campo aperto. Cavalcata, dribbling e doppietta per il fantasista, che poco dopo esce tra gli applausi. Il gol nel finale di Tozzi-Borsoi vale soltanto per le statistiche. Dopo il triplice fischio dell'arbitro, i Rosso-Blu vengono richiamati in campo dai tifosi della curva per un lungo e vibrante confronto. La Sambas profonda e, nonostante il terzo posto in classifica sia difficilmente attaccabile, è praticamente impossibile pensare di fare strada nei play-off. La Sambas profonda e, nonostante il terzo posto in classifica sia difficilmente attaccabile, La Sambas profonda e, nonostante il terzo posto in classifica sia difficilmente attaccabile,